Siamo quei ragazzi che non sanno che cos'è l'amore, i vecchi dicono così perché non hanno più vent'anni. Ci innamoriamo di quelle ragazze che sono come noi, che sanno ballare lo shè, non i madri, che sanno ballare lo shè, non i brancro, che sanno ballare lo shè, non i brancro, che sanno ballare lo shè. Se, se tu, se tu vuoi che vieni a ballare lo shè. Ma è solo caroselli. Dipende ingegnere, se passa. Ah! Per la dea, per la signora elegante, per la donna dell'era spaziale, sali da bagno. Basta così, grazie signorina Luisa. Arrivederci a tutti. Ciao! 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 Sì! Va bene, va bene. Il dono Francesco. Oh maestro! Ho singato? Oh questo non lascia dire al me, ho visto tutti i suoi film. Tutti non credo, è troppo giusto. Lei è un vero talent scout, come si dice, uno scoprettore di talenti. Diciamo che ho incontrato l'aspirante giusto nel momento giusto. Io sono dell'ariete, se è questo che vuol dire. Ovisto… ...